Ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella, lasciare un mi piace e guardare fino alla fine il video. Grazie. Una notizia tragica ha colpito il mondo dello spettacolo e gli appassionati di pattinaggio artistico. Una giovane pattinatrice, Alexandra Paul, è stata vittima di un terribile incidente stradale che ha portato alla sua prematura scomparsa. Ma il destino ha risparmiato il suo piccolo figlio coinvolto nell'incidente insieme a lei. Una vicenda che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e che ha suscitato un'ondata di commozione tra gli amanti dello sport e dell'intrattenimento. Martedì è stata una giornata nera per la famiglia di Alexandra Paul. Mentre viaggiava con il suo adorato figlioletto Charles, di soli 21 mesi, un tragico schianto ha sconvolto la loro vita. Un camion si è scontrato violentemente contro l'auto in cui viaggiavano, causando danni irreparabili. Fortunatamente il piccolo Charles è riuscito a sopravvivere nonostante le ferite riportate nell'incidente. Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagini. Ma l'evento ha già lasciato un segno indelebile nella comunità dello spettacolo e oltre. Alexandra Paul era molto più di una semplice VIP. La sua passione per il pattinaggio artistico l'aveva resa una figura rispettata e amata nel mondo dello sport. L'organizzazione SK Canada ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa improvvisa della giovane atleta. Era una stella splendente dentro e fuori dal ghiaccio, ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato. La sua carriera era stata costellata di successi, 3A cui una medaglia d'argento ai campionati mondiali junior di pattinaggio di figura nel 2010 e la partecipazione ai giochi olimpici invernali di Sochi nel 2014.